signori capitolo 21 l'atlantide del deserto penultimo capitolo di questo uncharted 3 poi ci muoveremo verso uncharted 4 quello le master per ps 5 e vediamo un po ora io tutto ok tutto però non vorrei veramente contare altri nemici pure qui un capitolo esplorazione ogni tanto me lo merito pure giusto per informazione incredibile è così che la città è riuscita a prosperare questo posto deve essere collegato a una sorgente sotterranea aspetta è proprio fuori sincro è fuori sincro il labiale l'audio i sottotitoli è pulita è incredibile che funzioni dopo tutti questi anni vabbè è acqua buttala via un'eclissi davvero impressionante cosa? no stalbot ti prego un'altra volta sali ragazzi quanto è fastidioso sto fuori sincro cioè ecco gli altri bastardi raga ok fammi muovere di qua fammi eliminare prima subito quello là sopra oh cazzo che cosa dove si è teletrasportato dove cazzo vai ok qua non mi può prendere nessuno ma perché sono così imbattibili con i pugni via ragazzi ma io sto svuotando caricatori interi addosso e non muoiono cos'è sta roba appunto neanche con l'RPG però con l'arma cioè in realtà vabbè ci siamo capiti muori? grazie per lasciarmi senza arma lunga non fare complimenti via dai coglioni hammer dove sei? dov'è? e deve morire praticamente tre volte ho capito una volta morire non gli basta se si potesse non morire ecco più o meno la spiegazione di questi nemici qua oh sono vivo? come faccio ad essere vivo? come faccio ad essere vivo? non lo so ma sono vivo dov'è essere in carna? qua ok vabbè ci siamo leggermente salvati il culo leggermente perché ovviamente non è che basti la musica non è finita quindi ciò vuol dire che qualcuno ancora c'è ci fa anche lì ma potrei scriverci una canzone vuol dire che qualcuno ancora c'è però si è aperto il centro attenzione eh no ma non è non si può scendere fantastico dove sei che ti sento? ma non ti vedo e vaffanculo e ciao oh finita la musica finalmente potrei abbassarti prima no Talbot no che è lo scontro finale con Talbot al penultimo capitolo io ho ancora un colpo di Hammer tra l'altro però non so in quanto manderò fanculo in realtà però qualcosa mi dice che Sully non è morto ed è anche facilmente intuibile e sapete bene perché sei morto mi hai sentito sei morto sì ma di dire sei morto aspetta torna qui brutto certo che se corri a sta velocità Nate dove è andato? ma perché ci siamo materializzati in un'altra città? questo è carta ghena non venivo qui da quando ero un ragazzo e ce ne torniamo indietro eh sì ah però come capitolo bello dai niente da dire oh no oh no oh tutti insieme stiamo pagando tutti insieme grazie per mostrarmi la strada sempre sti bastardi ma perché non mi mostri la strada perché devo andare a tentativi dove vado? raga dove vado? ok siamo tornati a quando lui era bambino via via qua sopra oh finalmente posso vedere la strada che bello mercato è mercato però mercato sta ceppa di minchia ok ok ricordi di gioventù cosa? salli no no male allucinazioni no cosa? ti prego oddio oh no che cos'è? c'è drogati tutto si muove tutto devo andarmene devo andar via no 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 non ce la faccio che cos'è? e li siamo appunto a capo questo è troppo un campo da battaglia ragazzi secondo me qualcuno fuori spunta c'è anche un'arma per terra laggiù oh undici colpi di hammer buoni eh tre colpi di pistola di precisione non male nemmeno quelli no devo ucciderli ancora loro tanto non è che abbia tanta scelta fuori dai coglioni fuori dalle falle ti ucciso salli io ammazzo voi ok no bene hammer hammer sia perché sento la musica ma non vi vedo big problem oh tesorino cazzo è un timbro ok io credo di aver fatto fuori quelli che c'erano da far fuori credo penso e spero posso aprire sto cancello finalmente ah si apre da solo benissimo altro campo di battaglia vai certo via no bene così uff avevamo rischiata grossa ragazzi avevamo rischiata grossa ma ci hanno premiato l'rpg quanti colpi c'ha due e mi tengo l'rpg ragazzi perché sennò veramente devo svuotargli i caricatori addosso dai fate venire altri bene così ok però se gliene fai due di fila muoiono prima che ci smaterializzino muoiono ok quindi pistola sempre carica bene così uff aspetta bello no no oh due rpg buono ok perché hanno abbassato la testa le statue devo per forza proseguire con queste due armi con queste due lammer sali e vivo si smaterializza anzi si materializza la porta fantastico no 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 non c'è una una sgranatura è così l'effetto droga allora aspetta 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 ok rompe il pavimento vero dimmi che sta finendo sto effetto perché non ne posso più uno è andato adesso manca l'altro ok mi va fatta forza quello cos'è che cos'è non è un tesoro una battaglia contro se stesso e tutto questo è dove ci risvegliamo oh mio dio ah qua questo è come era una volta ha senso e adesso la proseguiamo bene così eccoli là e sarà una bella camminata ragazzi ci divertiamo stronzi bella bella camminata e sarà anche l'ultimo capitolo sogni ad occhi aperti grazie a tutti non c'è grazie a tutti Grazie.